Buonasera a tutti e grazie per esservi disturbati a venire qui questa sera così numerosi. Innanzitutto mi scuso se partiamo con qualche minuto di ritardo, ma ho ritenuto opportuno aspettare appunto tardare un momento anche per permettere a chi ha partecipato alla messa del Giovedì Santo di poter unirsi a questa serata. Io esordisco col dire una cosa che mi è successa nei mesi scorsi e che mi ha gratificato molto, ovvero che tantissime persone, molte delle quali qui presenti in sala, davano un po' per scontato la mia ricandidatura a sindaco di Aglie e devo dire che questa cosa mi ha sicuramente onorato e inorgoglito, però se c'era una persona che non dava assolutamente per scontato questa ricandidatura ero proprio io. Infatti ho ragionato a lungo per trovare delle motivazioni che fossero concrete per poter come 5 anni fa trovare un po' il motore che mi consentisse di mettere il giusto impegno e la giusta determinazione, quella che serve per amministrare il nostro Paese. Infatti io sono molto legato a Aglie, come sapete sono nato, sono cresciuto, la gran parte delle mie esperienze sono state a Aglie e non avrei mai accettato l'idea di ricandidarmi così tanto per fare, tanto per continuare quello che è stato fatto. Quello non l'avrei voluto come prospettiva. Quindi penso che sia abbastanza umano e legittimo a un certo punto della vita di una persona fermarsi un attimo, soprattutto dopo un lungo percorso come quello che può essere una legislatura, un quinquennio all'amministrazione di un comune e guardare indietro. Io l'ho fatto e devo dire che sono estremamente soddisfatto del lavoro che siamo riusciti a fare in questi cinque anni che si stanno concludendo e sono grato a tutte le persone che hanno contribuito affinché questi obiettivi venissero raggiunti. Mi riferisco sicuramente alla squadra uscente ma non solo, tutto un sistema Paese che parte dall'amministrazione, i dipendenti comunali, le associazioni, i cittadini che con il loro contributo ogni giorno hanno fatto sì che noi potessimo raggiungere tutti insieme dei risultati. Poi arriva un momento in cui bisogna puntare lo sguardo in avanti, come dicevo prima, cercare nuovi stimoli, nuove sfide, nuovi progetti da realizzare. E se siamo qui oggi è perché sono profondamente convinto che ci siano ancora moltissime cose da fare per Aglie, per rendere Aglie non soltanto uno dei più bei posti da vivere, ma anche per restituire il ruolo che giusto ricopra nel panorama canavesano. Se siamo qui questa sera, io col mio gruppo, è perché l'entusiasmo che ha mosso il sottoscritto e il gruppo uscente cinque anni fa non si è assolutamente affievolito, anzi direi che si è riacceso, anche grazie all'appoggio e al consenso che voi tutti e tutti gli alladiesi, anche i non presenti questa sera, non hanno mai mancato di manifestarmi nel corso di questi cinque anni. Tra poco avrò modo di presentarvi la squadra, anzi saranno loro a presentarsi, è una squadra di cui sono estremamente orgoglioso, una squadra eterogenea, eterogenea da un punto di vista anagrafico, eterogenea da un punto di vista delle competenze, perché per amministrare un comune non serve essere tutti allineati su una precisa competenza, ma serve avere tante persone che conoscano i vari aspetti, le varie sfaccettature che servono per poter amministrare il Paese e questa è la squadra di cui sono orgoglioso e che tra poco vi presenterò. Ci sono persone come il sottoscritto e come altri che hanno già vissuto un'esperienza e quindi sanno già più o meno come funziona la macchina amministrativa, quindi abbiamo l'esperienza, la pacatezza e i piedi saldi a terra affinché si possano fare delle scelte più ponderate possibile. Però allo stesso tempo abbiamo anche la grinta, l'entusiasmo e lo sguardo rivolto al futuro dei giovani di cui per il momento credo di fare ancora parte anch'io. Quindi quello che ci accomuna oltretutto è proprio anche una visione di Aglie che per i prossimi cinque anni vuole vedere un Aglie più dinamica, più viva, con tanti obiettivi ancora da realizzare. Avrei voluto parlare questa sera in modo dettagliato, ma non lo posso fare in modo dettagliato, dei tanti risultati che abbiamo portato a termine nel corso di questi anni. Per fare una sintesi dei principali obiettivi raggiunti, abbiamo questa presentazione che gira alle nostre spalle, che vuole raccontare sicuramente in modo non esaustivo però tutte quelle opere, i lavori e le iniziative che sono state documentate fotograficamente e che abbiamo ritenuto così di far girare affinché anche voi possiate vederli. Scorrerò rapidamente alcuni obiettivi raggiunti, a partire ad esempio dalle opere pubbliche perché è forse il campo dove si vedono un pochino di più risultati e quello sicuramente in cui mi sono di più impegnato. Partiamo dalle strade, strade comunali che a partire dal 2014 abbiamo manutenuto costantemente, ricordo che all'inizio della legislatura abbiamo beneficiato di un contributo notevole di un milione di euro con cui abbiamo asfaltato tante strade comunali e abbiamo anche pavimentato il parcheggio Conte Filippo di San Martino, il parcheggio della Ramba che fino all'epoca era ancora sterrato. Poi abbiamo continuato sui lavori di manutenzione stradale un po' in tutti gli anni fino a concludere quest'anno con la manutenzione delle ultime quattro strade, abbiamo asfaltato il primo tratto di via Meletta, abbiamo asfaltato via Crosa, via Le Rimembranza, Vicolo Sottoroggia e altre manutenzioni. Molto abbiamo fatto anche in ambito idrogeologico, il lavoro più evidente che è stato portato a termine è la realizzazione del canale che intuba il rio Cua che arriva dalle colline ed è una delle concause che spesso in caso di nubi fragili crea problemi a via Principio Amedeo e al centro storico. Questa situazione non è del tutto risolta perché quello che era era una delle componenti però sicuramente se qualche anno fa il problema degli allagamenti era molto più frequente adesso può ancora succedere, anzi succede e purtroppo succederà ancora però stiamo studiando altri interventi per eliminare del tutto le acque parassite dal nostro territorio ma con quell'intervento siamo riusciti a risolvere in parte il problema. Abbiamo fatto altri interventi minori sui vari rii più un intervento importante che nascerà tra, vedrete partire il cantiere tra poche settimane grazie al quale il ponte canale che permette a Rio Rialto di superare il canale di Caluso verrà risistemato sia da un punto di vista idraulico ma anche da un punto di vista architettonico e paesaggistico perché è un punto che è molto rovinato ma sicuramente merita di essere risistemato. Passiamo poi all'ambito del servizio idrico integrato, il cosiddetto servizio idrico integrato parliamo di fognature, parliamo di acquedotti, abbiamo realizzato sempre ovviamente in collaborazione con SMAT che è l'ente gestore una serie di interventi importanti a partire dalla fognatura che collega la frazione di San Grato alla Luisetta passando per la Borgata Ricchi, Cacine Ricchi che era l'unica borgata di Aglie, anzi la penultima ancora da collegarsi ed è stata collegata. Con questo intervento sono anche stati realizzati dei nuovi tratti di acquedotto nel centro storico più altri brevi tratti di rifacimento di fognature e di acquedotti sparsi per il paese. Sempre con SMAT, questo lo state vedendo in queste settimane passando da Piazza Pogionetto, la cosiddetta torre dell'acquedotto, l'edificio che ospita il pensile è oggetto di ristrutturazione. Il serbatoio necessitava di importanti opere di manutenzione, SMAT ha deciso di intervenire e con quest'opera di manutenzione rifacciamo anche tutta la parte esterna, c'era un intonaco faticente e lo andiamo a ripristinare ridando il giusto decoro a quello che ritengo essere uno degli edifici più rappresentativi della ripresa economica del dopoguerra alla diese. Mi sposto poi a scuola dove abbiamo realizzato molte opere a partire dai bagni che sono stati rifatti all'inizio della legislatura, i bagni delle scuole medie che riservano ancora agli anni 30, ovvero l'epoca in cui è stato realizzato l'edificio scolastico, per poi passare alle opere di rifacimento della facciata posteriore e di adeguamento degli spazi che oggi ospitano la biblioteca, biblioteca di cui però parlerò un po' dopo. Mi sposto poco lontano dalla scuola invece al salone polifunzionale, recentemente sapete abbiamo intitolato il salone polifunzionale alla memoria dell'architetto Franco Paglia contestualmente all'altra intitolazione della via al dottor Aldoroletto. All'interno del salone abbiamo fatto diverse opere di manutenzione costanti ma i lavori più importanti sono stati proprio quelli di sistemazione dell'area esterna, evidentissimi con la nuova pavimentazione in autobloccanti e tutti gli abbellimenti che sono stati realizzati grazie alla famiglia Paglia che ha voluto farsi carico di questo intervento. Da parte nostra come comune abbiamo invece realizzato l'adeguamento impiantistico ed edilizio del locale che ospita la cucina con tutta la sua attrezzatura. Dal mese dicembre infatti finalmente il salone è dotato di una cucina funzionante. Mi sposto dal salone a un altro edificio che è il principale ovvero il municipio. Il municipio è stato restaurato totalmente nel 1968 e nel 2018, vale a dire 50 anni dopo, abbiamo realizzato quella che ritengo essere probabilmente la ristrutturazione più importante. Abbiamo rifatto totalmente le facciate che erano veramente poco decorose oltre che in certi punti anche pericolose a causa del distacco dell'intonaco, quindi ridonando un nuovo decoro all'edificio. Parallelamente abbiamo ricostruito e risistemato le pavimentazioni interne in legno, anche esse in pessime condizioni e soprattutto abbiamo proceduto alla sostituzione dei serramenti, questo in due anni consecutivi, opera che oltre all'importanza dal punto di vista edilizio ha anche una notevole importanza dal punto di vista energetico, considerato il notevole risparmio che si può ottenere attraverso i nuovi serramenti rispetto a quelli che erano vecchi dove fisicamente ci passava veramente un dito, un modo di dire passa il dito dalla fila, ma ci passava veramente nei serramenti del comune. Dal municipio ci spostiamo al cimitero dove sono anche state realizzate diverse opere a partire dall'area esterna, quindi la sistemazione del parcheggio, quello superiore, la ripiantumazione, la realizzazione di una ringhiera a protezione del dislivello alle spalle di San Gaudenzio e spostandoci all'interno del cimitero abbiamo realizzato un camminamento pedonale in autobloccanti per rendere più facilmente accessibile la zona di inumazione del campo comune e al centro del cimitero abbiamo riqualificato l'area centrale, quella posta al di sotto dell'edicola funeraria che ospita le spoglie dei sacerdoti alladiesi, realizzando una nuova scala centrale e spostando la croce che era posizionata su un cippo lapidio, spostandola in basso insieme a una lapide a ricordo del cardinale Carlo Furno. Sempre al cimitero un'opera prevista per i prossimi mesi, vedrete veramente tra poco che partiranno i lavori, un elevatore per rendere accessibile il primo piano, quello sopra al piano rialzato, per intenderci ci sono i loculi bianchi che è l'unica zona ad esclusione ancora dell'estremo nord-ovest dove non c'è accessibilità per i disabili, quindi realizzeremo questo impianto che riteniamo essere importante e abbiamo finanziato grazie al contributo del Ministero ottenuto all'inizio di quest'anno. Mi sposto e parlo dell'ultima opera importante che è un'opera che purtroppo non è ancora terminata, ma questa sera vi do una buona notizia, è la rotatoria sulla circonvallazione. Voi sapete bene che due anni fa, dopo otto anni di battaglie, abbiamo ottenuto dalla città metropolitana la realizzazione di questa rotatoria provvisoria, in cambio il Comune si è fatto carico dell'illuminazione della rotatoria stessa. Tutto quello che dovevamo fare come Comune l'abbiamo fatto, la città metropolitana si era impegnata a fare i lavori definitivi. Io in occasione di questa serata, per avere il dato più aggiornato possibile, ho telefonato ieri al responsabile metropolitano del settore viabilità che mi ha confermato che la scorsa settimana è stato finalmente firmato il contratto di aggiudicazione dei lavori. Vale a dire che i lavori che inizialmente erano previsti per gennaio-febbraio, come inizio, dovrebbero iniziare nell'arco delle prossime settimane. Uso il condizionale perché naturalmente non siamo noi a gestire direttamente questi aspetti, essendo la città metropolitana, però mi ha dato delle sufficienti garanzie. Come dicevo, questo è stato un rapido passaggio rispetto a quelle che sono le opere, adesso vorrei dedicare ancora qualche minuto prima di passare la parola ai candidati su alcuni progetti. Il primo è la biblioteca. Pochi mesi fa abbiamo inaugurato la biblioteca che è un progetto che ho detto in più occasioni essere un po' un progetto da manuale. Perché un progetto da manuale? Perché quando inizi l'attività da amministratore comunale la prima cosa che ti viene detta è che è necessario programmare e la seconda cosa che capisci è che programmare molto spesso è impossibile perché ci sono degli imprevisti, perché sono all'ordine del giorno, perché ci sono sempre delle situazioni che non riesci a gestire come vorresti e di conseguenza la programmazione spesso e volentieri viene fatta per non essere rispettata. In questo caso specifico siamo riusciti in un progetto che è durato 5 anni prima a, come dicevo prima, a ristrutturare i locali, dopodiché a deciderne la destinazione d'uso, la destinazione d'uso che proprio in quanto tale ha reso necessario un ulteriore intervento in ambito strutturale perché purtroppo i solai non erano adeguati per sopportare i carichi di una biblioteca. Lavoro che abbiamo fatto e dopodiché grazie a una fittissima collaborazione con la scuola e l'ottenimento anche di finanziamenti da parte del Ministero per l'istruzione, siamo riusciti a allestire questa biblioteca, che è una biblioteca tecnologica ricca chiaramente di libri, ma anche di tanta strumentazione utile soprattutto al giorno d'oggi. Una cosa che mi ha lasciato abbastanza senza parole è stato il giorno in cui abbiamo inaugurato la biblioteca, è stata nostra ospite l'assessore regionale e ci ha detto in cinque anni questa è la terza biblioteca, appena la terza biblioteca che visito a seguito di un'inaugurazione. Considerato che in Piemonte siamo più di 1200 comuni abbiamo fatto sicuramente qualcosa di non così frequente, ma ritengo molto importante, anche perché la biblioteca oggi ha un utilizzo veramente molto importante, molto frequente da parte sia di adulti ma soprattutto dei bambini che avendola all'interno della scuola la possono usare più facilmente. Scuola con cui abbiamo oltre alla biblioteca impostato tantissime collaborazioni con laboratori e varie attività finanziate dal comune e sulla quale abbiamo anche attivato un processo di innovazione tecnologica come ad esempio l'utilizzo dei badge per la mensa che sono uno strumento importante tecnologico, un servizio veloce per le famiglie che agevola sicuramente i pagamenti e conseguenza positiva anche per le casse comunali azzera quasi l'amorosità nei confronti del comune. Dalla scuola mi sposto velocemente alla cultura, tante sono state le iniziative ma una in particolare che voglio ricordare è il centenario di Gozzano 2016, centenario della morte che ha avuto un grande successo. Abbiamo istituito un comitato interistituzionale che vedeva oltre la presenza del comune, anche della città metropolitana, della regione, del consiglio regionale e del ministero e di altri soggetti pubblici e privati e siamo riusciti a coordinare un insieme di eventi che è durato un'intera stagione. Un progetto importante il cui valore ci è stato riconosciuto veramente da tante persone, soprattutto dagli addetti ai lavori e credo che così in questo modo abbiamo anche onorato nel modo giusto la figura del compianto Guido Gozzano. Questo è stato un evento, una tantum chiaramente, un centenario, però gli eventi sono stati un tassello importante di questa amministrazione, noi crediamo che la valorizzazione del territorio e il far arrivare persone da fuori passi anche attraverso gli eventi. Quindi riferendomi agli eventi comunali, due sono gli eventi principe, il primo Calici tra le stelle, che esisteva già in passato, in un'altra versione si chiamava Calici di stelle, poi trasformato e che oggi è sicuramente un evento di riferimento a livello canavesano e non solo in ambito culturale ed enogastronomico. Siamo molto soddisfatti perché è un evento che è cresciuto molto negli anni ed è un evento che ha costo praticamente zero per le casse comunali perché si autofinanzia grazie anche al contributo di diversi sponsor. Poi un nuovo evento, la cena Ducale, sempre nel mese di luglio che è nata appena tre anni fa ma che sta crescendo anno dopo anno e poi quello che è il nostro evento storico San Massimo, un piccolo risultato però per me molto significativo è stato quello di riuscire a riportare la festività di San Massimo nel centro storico in Piazza Castello dopo dieci anni in cui le giostre sono state installate in vari punti periferici del paese. Tocco ancora l'argomento del turismo fondamentale per Aglie, se ne parlerà ancora con i candidati che prenderanno la parola dopo di me, abbiamo ottenuto un risultato veramente importante che è quello della bandiera arancione, la bandiera arancione è il più alto riconoscimento a livello turistico che si può ottenere in Italia dal Touring Club e che è riconosciuto anche a livello europeo, forse è più nota la bandiera blu che riguarda i comuni costieri, ma la bandiera arancione non è da meno, per poter entrare all'interno dell'associazione bandiera arancione c'è una procedura molto selettiva ed è molto difficile entrare, basta dire che in tutto il Piemonte, sempre nei famosi 1200 erotti comuni, appena 20 fanno parte di questa associazione e hanno questo importante riconoscimento. Con la bandiera arancione abbiamo anche ottenuto il riconoscimento di Comune Fiorito e poi voglio parlare ancora brevemente di un progetto nato dall'idea di questa amministrazione insieme con i comuni di San Giorgio e Castellamonte che è il progetto delle tre terre canavesane, un marchio nato in occasione dell'Expo 2015 che sta vivendo tuttora e che è diventato comunque decisamente riconoscibile come marchio di valenza turistica del nostro territorio e su cui puntiamo molto anche per i prossimi anni. Io direi che sulle cose fatte avrei ancora tante cose da dire ma non vado oltre perché sono sicuro che oltre vi annoierei. Ancora un cenno per me molto importante e significativo, voglio sottolineare che tutti i risultati che vi ho elencato e vi giuro non è retorica, non sono avvenuti grazie a me. Io ho avuto forse la capacità di guidare una squadra ma senza questa squadra io non avrei fatto assolutamente niente. Quindi sono veramente grato a ognuno di loro perché abbiamo lavorato bene insieme, abbiamo sacrificato tanto tempo libero alla nostra vita privata, abbiamo condiviso idee, progetti e soprattutto abbiamo portato dei risultati concreti. La mia più grande soddisfazione è che questo gruppo è rimasto compatto per tutti i cinque anni con un entusiasmo assolutamente invariato e quindi voglio ringraziare tutti i consiglieri uscenti, anche quelli che hanno deciso per motivi personali di non ricandidarsi e mi riferisco che sono qui in prima fira a Claudia Scavarda, Walter Acquadro e Walter Michela. Claudia e Walter Michela, consiglieri comunali in questi cinque anni, Walter Acquadro 29 anni in comune di cui 9 da sindaco. Credo che meritino un applauso. Però nonostante non siano più in prima linea, sono in prima fila, non sono in prima linea da lì, ma sono in prima fila perché non scappano. Mi piace pensare ad Aglie prima di tutto il nome della nostra lista, non come dei nuovi consiglieri che sostituiscono quelli uscenti, ma mi piace pensare all'idea di un gruppo che si amplia con delle nuove persone che mettono la faccia e con il loro contributo per poter continuare ad andare avanti e lavorare tutti insieme e anche insieme a voi per cercare di far qualcosa di buono anche nei prossimi cinque anni. Ultimo ringraziamento anche alle minoranze, non è scontato ma spesso e volentieri in molti comuni le minoranze sono fonte di problemi, comunque tendono a mettere i bastoni tra le ruote. Io devo riconoscere che in cinque anni le minoranze di Aglie hanno avuto un approccio collaborativo e un confronto costruttivo, quindi di conseguenza il mio ringraziamento va anche a loro perché pur nel rispetto degli specifici ruoli si è sempre lavorato tutti insieme per il bene del Paese. Ora ho finito, riprenderò ancora per cinque minuti alla fine per le conclusioni il microfono e passerai la parola ai miei candidati che uno per volta si presenteranno. Grazie. Buonasera a tutti, io mi presento, sono Maffio Silvia, consigliere delegato al turismo, politiche giovanili e edilizia privata già nello scorso mandato. Prima di tutto un duveroso ringraziamento va a te Marco, lo sai, te l'ho sempre detto, ti ringrazio innanzitutto per aver dato a me cinque anni fa la possibilità di far parte di questo gruppo nonostante la mia giovane età e io vorrei sottolineare una cosa, uno dei nostri aspetti fondamentali del gruppo è stato appunto la tematica non solo Aglie prima di tutto ma anche le persone prima di tutto. Io ritengo che anche in primis nel nostro gruppo Marco sia riuscito a garantire questa coesione del nostro gruppo grazie anche al fatto che ha sempre creduto in noi, nelle nostre capacità e quindi anche i progetti che sono stati realizzati anche grazie appunto al fatto che ha sempre creduto in noi, quindi per questo ti ringrazio. Come ho detto quindi mi sono occupata di turismo, politiche giovanili e edilizia privata, in particolare sul turismo negli ultimi diciamo secondo me tre anni c'è stato un impulso maggiore per quanto riguarda settore turistico, quindi settore terziario e in particolare per quanto riguarda Aglie ovviamente siamo tutti d'accordo con il fatto che Aglie ha un biglietto da visita non differente dal punto di vista architettonico che è il Castello Ducale ma non solo, ha anche delle particolarità dal punto di vista enogastronomico, culturale e paesaggistico. Quest'anno infatti si parla anche di turismo slow e quindi il tutto rientra in quello che è appunto Aglie, quello che appunto ci ha fatto ottenere come paese il riconoscimento della bandiera arancione. Con la bandiera arancione abbiamo portato avanti una progettualità di comunicazione a livello internazionale, però io qua devo ringraziare e vedo che sono presenti coloro che fanno parte dell'ufficio turistico e della Proloco grazie al quale l'accoglienza e il lavoro quotidiano è stato effettuato in maniera egregia e con il quale io personalmente ho collaborato in maniera molto costruttiva e che ringrazio. Un'altra cosa vorrei ringraziare anche le associazioni e i volontari che ci hanno aiutato nella riuscita degli eventi, in particolare appunto Carici tra le stelle, che ha permesso di dare un impulso fondamentale per quanto riguarda il patrimonio enogastronomico locale. Vorrei ancora dire una cosa, in quanto tratto anche di inizia privata e collegato anche al turismo per quanto riguarda il concetto dell'accoglienza. L'accoglienza io ho cercato di portarlo avanti per quello che riguardava la partecipazione a comuni fioriti, quindi garantire un'estetica maggiore per quanto riguarda il paese, non solo per il turista ma anche per tutti noi che quotidianamente passeggiamo e attraversiamo il nostro paese. Da punto di vista dell'estetica del paese, in particolare del centro storico, un progetto che vorrei portare avanti riguarda appunto il fatto della riqualificazione e quindi pianificazione strategica per quanto riguarda la riqualificazione estetica degli edifici, per cui tutti sappiamo che attualmente ci sono già dei bonus del 50% delle detrazioni fiscali per quanto riguarda il risparmio energetico e la riqualificazione dal punto di vista delle ristrutturazioni edilizie, a cui vorrei aggiungere incentivi di tipo comunale per cui dare un impulso a quella che è anche il settore dell'edilizia, quindi garantire la qualità dell'accoglienza. Per quanto riguarda invece i giovani, mi sono occupata appunto di politiche giovanili, io dico sempre che faccio parte di quell'età, ormai ho 29 anni, sono entrata appunto nel loro gruppo 5 anni fa, sono comunque ancora giovane e io ritengo sempre di far parte di quell'età che diciamo del futuro incerto, ovvero il futuro col punto interrogativo, quindi analizzando un po' la situazione io ritengo che siamo comunque in una situazione socio-economica, non delle migliori, per cui noi come giovani dobbiamo darci, diciamo far sì che ci sia, sia portato avanti il concetto della resilienza, quindi adattarsi al cambiamento e creare delle opportunità. Per quanto riguarda i giovani, quindi negli anni scorsi ho cercato di affrontare un tema diciamo anche molto difficile che è quello del tema giovani lavoro, ho collaborato con il centro dell'impiego di Vreel Cornier grazie al quale abbiamo realizzato il cosiddetto progetto Lunedì Giovani sui Territori, formulando quello che è, diciamo portando a conoscenza ai giovani quello che è il progetto Garanzia giovani con il quale appunto i giovani della faccia di età compresa fino ai 29 anni hanno potuto realizzare un percorso di formazione, orientamento e iniziare l'attività lavorativa attraverso un tirocinio formativo. Per quanto riguarda invece i più piccoli, un progetto cui io ho ritenuto molto importante è stato l'orto didattico, cui ho sempre creduto e anche qui voglio ringraziare la direzione didattica, in particolare la fiduciaria, le maestre e ovviamente i ragazzi, i bambini che si sono occupati di questo orto didattico e ovviamente gli sponsor, i quattro sponsor grazie ai quali il costo per l'amministrazione comunale è stato pari a zero, quindi abbiamo realizzato un'aula a cielo aperto, un'aula in più attraverso quale l'obiettivo è quello di garantire ai più piccoli di fargli capire quello che è il tema dell'ecologia, della sostenibilità ambientale che ora è un tema ovviamente al giorno d'oggi è il tema fondamentale e anche fargli scoprire quali sono i frutti del loro lavoro dopo la pazienza di coltivare appunto gli ortaggi. L'orto didattico quindi è stato appunto come vi dicevo uno dei progetti a cui tengo molto e spero e sta continuando ad andare avanti, spero che possa continuare, quindi concludo continuando a portare il mio ruolo in questa amministrazione, continuando con la stessa buona volontà che ho portato avanti in questi anni e concludo con una frase che mi ha accompagnato diciamo nei miei studi di architettura e che cerco di portare avanti anche nel quotidiano, ovvero che è più facile realizzare il nuovo ma è sempre più difficile conservare l'esistente, per cui uno dei miei obiettivi sarà quello di riuscire per quanto possibile a portare avanti delle progettualità che ho già iniziato e appunto spero di riuscire a portare avanti. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Buonasera a tutti, mi chiamo Zucco Giovanni Battista, tutti mi chiamano Gianni perché va bene così, sono nato ad Alie, per me questa è un'esperienza nuova e spero che sia un'esperienza positiva. Tutto iniziò con una telefonata che mi fece il nostro sindaco dicendomi che aveva bisogno di parlarmi. Mi propose, ci parlavamo un attimino assieme, poi mi propose di entrare in lista con lui. Mi sentì molto molto felice di questa sua proposta, però gli dissi che avevo bisogno di prendermi qualche giorno per decidere. Comunque a questo punto ho deciso di candidarmi e di dare la mia disponibilità al Paese di Alie. Cercando, scusate, mettendo una maggiore attenzione ai lavori che possono esserci in questo Paese. Comunque spero che il vostro aiuto possa andare e aiutarmi per questo impegno che mi sono preso e inoltre voglio ringraziare tutti per la presenza di questa sera. E buona continuazione a tutti. Sono stato bravo di ringraziare. Buonasera a tutti. Sono Valeria Martinelli, ingegnera per l'ambiente e il territorio, libro professionista e assessore uscente. Io ringrazio tutti per essere qui stasera. Vorrei dire una cosa. Ho sentito il nostro sindaco prima ringraziare i suoi consiglieri per il lavoro svolto perché senza di noi non avrebbe potuto fare quello che ha fatto. Io devo ringraziare lui, noi dobbiamo ringraziare lui perché sicuramente Alie ha un grande sindaco e anche noi senza di lui non avremmo avuto una guida quale lui è stato per noi. Quindi grazie a Marco. Adesso vi leggerò una breve presentazione. Io in questi cinque anni mi sono occupata prevalentemente degli aspetti legati all'ambiente, all'ecologia e alla riqualificazione del territorio in generale. In ambito ambientale ho avuto modo di lavorare molto con il gruppo dei volontari ausiliari alla Diesi, con la protezione civile, nonché con le associazioni con cui abbiamo stipulato delle convenzioni apposite come ad esempio AIB e Giacche Verdi che tengo a ringraziare per la proficua collaborazione. A questo punto io vi ricorderei solo alcune delle iniziative portate a termine, cercherò di essere abbastanza breve. Vi ricordo la giornata di recupero ingombranti che ritengo un servizio utile che va ad aggiungersi a quelli che sono già messi a disposizione da SCS, che sono il numero verde e i centri di raccolta. L'attivazione dei servizi legati allo smaltimento dei manufatti contenenti amianto. Abbiamo infatti ottenuto dei contributi regionali e inoltre abbiamo attivato, alla fine dello scorso anno, uno sportello internet che è gratuito per tutti i cittadini, dove si possono avere tutte le informazioni utili legate allo smaltimento dell'amianto, sia dal punto di vista tecnico che sanitario. Vi ricordo anche la giornata di raccolta ecologica che è stata una nuova sperimentazione dell'anno scorso, che ha coinvolto tutta la popolazione nelle operazioni di pulizia del paese. Devo dire, è un'esperienza certamente da ripetere. Mi ricordo la lotta biologica alle zanzare, che è un'attività che concertiamo da diversi anni, ormai anche con i comuni limitrofi, in modo da dare anche continuità all'intervento e renderlo più efficace. La sponsorizzazione delle iniziative di SCS nei confronti delle scuole, con la diffusione anche di materiale informativo legato alla gestione delle problematiche di raccolta differenziata dei rifiuti. Abbiamo inoltre provveduto alla predisposizione di impianti mobili di videosorveglianza e di maggiori controlli, affinché vengono scoraggiate le azioni legate al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che tutti noi, ahimè, conosciamo. Tutte le azioni, volta alla tutela dell'ambiente e alla riqualificazione del territorio, verranno riconfermate ed anzi, dove sarà possibile, verranno potenziate ed arricchite anche da nuove iniziative. In particolare verranno valutate ulteriori azioni, volte al risparmio energetico degli immobili e degli impianti comunali e verrà implementato il sistema di videosorveglianza. È prevista inoltre la realizzazione di un'area cani nei pressi del centro abitato e sono in fase di posizionamento, non so se avete avuto modo di vederli, nuovi portacenere e cestini per la raccolta delle deiezioni canine. Stiamo valutando di poterne inserire in altri punti del paese. E poi sono in fase di posizionamento anche delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche, questo con l'obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile. Promuoveremo la cultura del rispetto dell'ambiente fornendo, come già in passato, tutte le informazioni sui servizi già attivi e sui nuovi che potranno essere attivati. Quindi ci premureremo di fornire comunicazioni, distribuendo volantini, organizzazione di eventuali serate a tema. e continueremo le azioni volte alla manutenzione del territorio. Io con questo concludo, vi auguro buon proseguimento di serata. Grazie. Buonasera a tutti, io mi chiamo Gianni Roscio, ho 47 anni, sono sposato con Sonia e sono papà di Mattia di 8 anni. Sono geometra, libero professionista, sono titolare di uno studio tecnico qui in paese e faccio parte della commissione edilizia di Aglie. Sono impegnato nell'ambito sportivo, faccio parte del direttivo dell'ASD Aglieva de Sacra e non ho mai avuto esperienze dirette a livello amministrativo, ma ho sempre seguito con molto interesse le attività comunali e il mio campo lavorativo mi porta quotidianamente a confrontarmi con la macchina amministrativa. Mio padre è stato amministratore comune di Noasca e della comunità montana, valiore che sovana per molti anni e l'idea di essere parte attiva nello sviluppo e nella gestione del territorio è stato un concetto per me molto chiaro e sempre molto presente nella quotidianità e questo ha sicuramente contribuito al mio naturale avvicinamento al mondo amministrativo nel momento in cui Marco mi ha proposto questa opportunità. sicuramente la profonda amicizia che mi lega Marco e oltre la stima che ho nei suoi confronti ha contribuito sicuramente a fare in modo che questa mia scelta sia stata fondamentale questo nostro legame. Qui ho trovato un gruppo di persone molto serie, capaci, motivate e si da subito creata una forte coesione, una grande unità di intenti che è stata comunque una qualità che ha caratterizzato questa lista uscente. Agli è il paese in cui vivo e dove lavoro mai da più di vent'anni e con grande entusiasmo metto a disposizione la mia esperienza professionale e di vita per portare un contributo e contribuire al funzionamento del comune con particolare riferimento all'ambito sportivo. Amo lo sport e il nostro comune in questo ambito ha un potenziale notevole grazie alle realtà associative che operano nel settore e alla presenza di un importante centro sportivo che naturalmente in base alle disponibilità economiche che ci saranno mi pongo come obiettivo di riqualificare trasformandolo in un vero fiore all'occhiello del territorio. L'attività sportiva è basilare per una comunità e fare in modo che i nostri ragazzi possano praticarla in un centro attrezzato e riqualificato è uno dei nostri obiettivi. Penso anche che il nostro territorio abbia delle qualità che possa unire davvero aspetti importanti, natura, cultura e tradizioni. Sempre più persone sono alla ricerca di luoghi che permettono di praticare attività sportiva in ambienti naturali, attrezzati e riqualificati. Personalmente penso che bisogna guardare lo sport come un'entità di attività e di persone, uno degli assi importanti per lo sviluppo economico e turistico del Paese. Oltre al sport naturalmente mi occuperò e mi renderò disponibile in ogni altra necessità che il Paese possa avere. Sono pienamente cosciente che questa nuova avventura mi porterà a rassorbire, mi rassorbirà molto tempo ed energie, ma vi assicuro che metterò in massimo impegno e mi dedicherò a questo incarico con determinazione, in modo da portare a termine impegni assunti. Sono convinto che questa squadra possa amministrare agli E al meglio e che si possa proseguire il cammino così virtuoso che ho potuto da cittadino apprezzare negli ultimi anni. spero siate convinti anche voi e che decidiate di sostenermi e di sostenerci, oltre che col voto con una partecipazione attiva nelle attività e nei progetti del Paese. Grazie a tutti. Buonasera, prima di iniziare mi associo innanzitutto ai ringraziamenti fatti dal nostro sindaco e dai miei colleghi, quindi non mi dilungo sui ringraziamenti. Mi presento, sono Stefania Chivino, sono stata in questi cinque anni la vostra vice sindaco, lo sono ancora per un po', diciamo, e forse è proprio per questo che questa sera sono più emozionata rispetto alle precedenti tornate elettorali, perché mi sento un pochettino come notte prima degli esami. Da un lato c'è l'entusiasmo, la voglia di ripartire e continuare a fare qualcosa di bello per il nostro Paese, d'altro lato però mi chiedo se ho meritato tutto questo, se sono stata abbastanza brava a realizzare quello che proprio cinque anni fa mi ero impegnata a fare in questa stessa sala. Cinque anni fa io mi presentavo, come lo sono detto oggi, come avvocato, come avvocato che da ormai 21 anni si occupa anche di rapporti tra pubblica amministrazione e quindi già in allora sottolineavo l'importanza di sapersi già muovere sin da subito all'interno della macchina amministrativa. Ecco, ad oggi io non posso che confermare tutto ciò. Amministrare non è improvvisazione e come diceva Marco prima, guidare e dirigere la macchina amministrativa è sempre più complicato e complesso. Io ho approfittato di questa sorta di mio vantaggio nel corso di questo mandato per cercare di realizzare la mia visione di buona amministrazione, che per quanto mi riguarda passa necessariamente attraverso il rispetto delle regole, ma le regole per essere rispettate devono essere facili, devono essere semplici da comprendere e moderne. Ed è per questo che laddove è possibile nel corso degli anni con gli uffici abbiamo cercato di mettere in mano a vecchi regolamenti, lecche convenzioni, quindi diciamo di fare un po' di pulizia, di modernizzarle dove è necessario introdurre regole nuove e in questo modo compiere un'attività che è stata senz'altro lunga, complessa, a volte oggettivamente anche noiosa, un pochettino sicuramente quasi invisibile all'esterno, ma non importa. L'importante è che sia stata fatta e quello che mi piacerebbe è poter, se me ne verrà data la possibilità, continuare a farlo. Però non ho solo dato, ho anche imparato tanto in questi anni, ho imparato innanzitutto a essere attenta a esigenze diverse dalle mie, a cimentarmi in settori lontani rispetto a quelli in cui normalmente io sono abituata a muovermi e ho imparato come anche da progetti piccoli si possano ottenere talvolta grandi risultati e mi piace ricordarvene alcuni adesso, partendo dal progetto di inclusione attiva che ci ha consentito di dare un sollievo di carattere economico a famiglie disagiate e ricevere in cambio da queste persone prestazioni lavorative, quindi a vantaggio dell'ente e dell'intera collettività. Poi penso ancora al baby pit stop allestito presso il Salone Franco Paglia. Aglie è stata tra i primi 15 comuni della regione Piemonte ad avere un punto allattamento all'interno di una struttura pubblica interamente finanziato. Penso poi ancora a due progetti completamente diversi tra loro per l'oggetto, ma con molti punti in comune e che sono l'avvio del gruppo di cammino e il recupero del lavatoio di San Gaudenzio. Queste due iniziative sono costate veramente quasi nulla al comune, però hanno avuto risultati, l'uno in termini di partecipazione eccezionale e l'altro in termini di risultato estetico notevoli. E poi quello che è stato veramente positivo è che una volta avviate dal comune queste due realtà sono state portate avanti, mantenute e implementate da persone volenterose del paese a titolo completamente gratuito. E a proposito di persone volenterose e di associazioni volenterose, io non posso fare a meno pure io di ricordare gli eventi, gli eventi che per me sono stati un banco di prove inaspettato e che però a ben vedere rappresentano una bella sintesi di quello che l'amministratore di un piccolo paese come il nostro è tenuto a fare. Mettere mani a contratti, far quadrare bilanci, spremersi la fantasia per inventare sempre qualcosa di nuovo, gestire e poi quando è ora riboccarsi le maniche e pedalare. Ora io non posso che impegnarmi a proseguire questo mio percorso col mio bagaglio di esperienza professionale e amministrativa e continuare a sforzarmi di concepire nuove idee. Ne ho già in mente alcune, per non tediarvi questa sera ve ne menziono soltanto una che stavolta sarà dedicata alle nuove attività commerciali. Negli anni passati abbiamo puntato molto sul turismo non solo per le attività ricettive in senso stretto ma come volano generale per l'economia locale. Ora mi piacerebbe introdurre un incentivo di facile e immediata fruizione per le nuove attività commerciali che decideranno di insediare sì ad Aglia attraverso un meccanismo molto semplice. L'attività si insedia, versa come doveroso proporzionalmente alla propria struttura la tassa rifiuti, l'anno successivo questa quota di tassa rifiuti potrà essere rimborsata e visto che in questi anni siamo stati anche bravi a mantenere casse comunali sane e floride l'ambizione è quella di riconoscere l'incentivo per più anni e perché no anche alle attività esistenti che decideranno di investire in progetti di espansione o ricollocazione con poi da definire dei dettagli. Mi avvio alla conclusione ricordando quello che avevo scritto nel mio primissimo articolo da vice sindaco nel giornalino di Natale distribuito nel 2014. In allora io auguravo agli alladiesi un'amministrazione capace di cogliere opportunità, di comprendere tempestivamente le esigenze dei cittadini, di rimediare in fretta le situazioni pregiudizievoli e laddove è possibile di prevenirle. Ecco ora quello che io vi posso promettere è continuare a lavorare per concretizzare, consolidare quest'augurio e di continuare a essere attenta, attenta alle necessità di agli e di chi ci vive e di chi ci lavora. E qui chiudo e vi ringrazio molto per l'attenzione. Buonasera a tutti, io sono uno dei giovani, anzi giovanissimi innesti del sindaco Succio e sono qui, come dice lui, per metterci la mia faccia. Il piccolo problema è che nessuno di voi mi conosce anche se vivo ad Aglie da 6 anni. Mi chiamo Loredana Dolce, ho 47 anni quasi, fra qualche mese e sono nata a Castellamonte. Vivo alla frazione dei Treciuchè, ho scelto Aglie perché l'ho proprio scelta 6 anni fa, perché avevo bisogno di un posto che mi desse un po' di serenità, di tranquillità, ma anche di un paese frizzante con tutto quello che poteva essermi necessario. Quindi un paese come Aglie che ha tantissimi negozi che sono di ottimo livello, ha tutti i servizi principali garantiti e poi ha un bel clima. Non sono mai a casa perché il mio lavoro è di manager per una società di Milano che si occupa di finanza strutturata, il che significa che passo il mio tempo in giro per le aziende del Nord Italia e per tanti paesi del Nord Italia. La mia famiglia, come vi dicevo, è canavesana, mia mamma forse la conoscerete perché è abbastanza conosciuta, si chiama Domenica Tomasi e aveva il ristorante Antichi Sapori a Rivarolo Canavese fino al 2012, quello dove c'è l'hotel Europa per intenderci. Adesso lei è Alessolo in una situazione più piccolina e fa anche un po' la nonna e la pensionata. Mio papà invece, che molti altri conoscono per altre ragioni, era un famoso giocatore di bocce, si chiamava Luciano Dolce, era una persona sempre solare, sorridente, un omone con i baffoni e tutti lo ricordano per la sua positività. Purtroppo ci ha lasciato improvvisamente, non ce l'aspettavamo, ma sicuramente quello che posso dirvi è che sia mia mamma che mio papà mi hanno lasciato quei valori che sono qui, sono qui del Canavese. Mia mamma poi è nata a Locana, quindi è del territorio, è proprio nata sulla frazione dei Mintiet, vicino ai Montigli. I valori sono che per ottenere qualcosa bisogna lavorare duro, lavorare sodo, che il rispetto delle persone lo si guadagna facendo il proprio lavoro nella maniera corretta e rispettando gli altri e rispettando le regole. Mi hanno insegnato che, come diceva mio papà, il bicchiere non è mai mezzo vuoto, c'è sempre una soluzione per qualsiasi cosa ci accade e anche le cose che ci accadono sono un'esperienza per noi e quindi ci insegnano a progredire. Un anno e mezzo fa un amico comune mi ha presentato Marco Succio, anche perché ero talmente lontana dal paese che non sapevo neanche che faccia a essere il sindaco. Quando io e Marco ci siamo incontrati abbiamo trovato tantissime attinenze nell'industria pensieri, ma soprattutto avevamo in comune la voglia di capire che cosa si poteva fare sempre di più per il territorio di Aglie, nel suo caso perché era già sindaco, io perché ero curiosa di mio. Abbiamo cominciato a condividere quelle che erano le mie esperienze nella finanza, con le aziende, con tutto il nord Italia e così è nato uno scambio di idee che è proseguito nel tempo. Quando qualche settimana fa mi ha chiamata per chiedermi di far parte di questo gruppo, subito ho riflettuto un attimo se i miei impegni potevano darvi qualche cosa, cioè se potevo dedicare il mio tempo per voi e per Aglie. Poi mi ha fatto andare a una prima riunione dove ho conosciuto tutti loro e dalla seconda volta, io ricordo bene, gli ho mandato un messaggio perché la sensazione che ho avuto a lavorare con queste persone è stata veramente quasi di essere a casa, in un gruppo di persone veramente eccezionali, sono tutti simpaticissimi, se non fosse che nessuno mi conosce quindi mi devo votare non voterei me stessa ma qualcuno di loro ce l'ho già ben chiaro in mente e gli ho proprio detto ti ringrazio perché io con queste persone sto bene, anche dopo una giornata lunga di lavoro, ritrovarli la sera, sentirli ogni giorno mi fa stare bene. Pertanto chiudo, io credo Marco abbia visto in me una possibilità di portare avanti il suo programma, di portarlo avanti apportando la mia esperienza che appunto è molto legata alla finanza e a quello che sta succedendo nell'economia italiana e internazionale. Spero di potergli essere utile, spero di potervi essere utile, vi prometto che darò tutta me stessa, se vi sono un pochettino simpatica e qualcuno decide di conoscermi meglio il mio cognome è facilissimo, dolce, è una delle cose che tutti i giorni si può provare a pensare di desiderare almeno fino di una giornata, che sia una dolcezza che sia un dolce vero. Grazie mille e buona serata. Buonasera a tutti, sono Dario Pelissero, ho 64 anni e sono pensionato. Nella consigliatura che sta terminando ho svolto l'incarico di staff del sindaco, parolone. Vuol solo dire che ho fornito possibili aiuti nel campo che meglio conosco, che è quello finanziario economico, oppure posso aver fatto semplicemente da commesso, andando a prendere e portare i documenti. Quindi questo è lo staff del sindaco, fa una specie di jolly dove altri hanno impegno, non possono, oppure mi ha semplicemente più, io ho maggior comodità, ho messo a disposizione in molto tempo che ho essendo pensionato. Ho dato la mia disponibilità per proseguire questa esperienza. In questa nuova consigliatura, se sarò eletto, un sogno che ho che coltivo da molti anni è quello di digitalizzare la mappa catastale del 1754, ma digitalizzarla come sono digitalizzati alcuni importantissimi documenti. Per il resto, come ho fatto in questi passati cinque anni, sarò disponibile per ogni cosa. Quindi quando mi vedevate sfrecciare per il paese con la canna da pesca, che succede spesso, tante volte passavo vicino a un idrante che perdeva e lo segnalavo, forse vedevo una buca. Era un lavoro di cucitura disponendo di molto tempo e per questo ho deciso di metterlo di nuovo a disposizione per i prossimi cinque anni. Grazie e buonasera a tutti. Buonasera a tutti, io sono Stefania Crepaldi e la presentazione è d'obbligo perché io non sono alla diese, ma mi sono trasferita ad Aglie una decina d'anni fa per amore e per amore di Aglie perché io ho sposato un alla diese doc, Luca, e nel frattempo la famiglia si è poi allargata perché sono arrivati Riccardo che adesso frequenta l'asilo qui di Aglie e Gianmarco che a settembre anche lui inizierà l'asilo mentre Riccardo inizierà la scuola primaria. Io ho sempre avuto una grande passione nella mia vita che per molti anni è stata anche il mio lavoro, io sono laureata in storia dell'arte e per anni ho lavorato ai beni culturali in superintendenza a Torino, lavorando tra Palazzo Carignano e Villa della Regina. Poi a un certo punto ho deciso anche io di mettere su famiglia, ho provato il concorso al Comune di Torino e adesso lavoro come responsabile amministrativo nei servizi educativi e in particolar modo mi mi occupo di progetti dedicati ai bambini in età prescolare e anche di ristorazione scolastica. Come ho conosciuto Marco qualche anno fa, proprio durante le celebrazioni gozzaniane a cui si faceva riferimento prima, ho avuto l'occasione di conoscere lui come anche Claudia, Walter e altri amministratori con i quali abbiamo realizzato un progetto per scrivere dei testi anche insieme alla professoressa Tappero, nei luoghi in cui Gozzano ha vissuto, quindi sono stati realizzati questi cartelloni che sono una possibilità di condurre un percorso in allie tra i luoghi gozzaniani e quindi quando mi ha chiesto qualche settimana fa se volessi partecipare alla sua compagine ho accettato con entusiasmo perché anche io nel mio piccolo sono figlia di due statali, mio papà è stato amministratore e lo è tuttora e quindi diciamo che io il comune e la vita amministrativa c'ero un po' nel DNA. Quindi dicevo accettato con entusiasmo l'eredità che io tenterò nel caso venga scelta di portare avanti è un'eredità difficile perché nel corso di questi anni Claudia ma poi tutta l'amministrazione hanno attuato dei progetti molto importanti che io intendo se ne avrò la possibilità portare avanti. Innanzitutto si è già accennato alla fattiva collaborazione che c'è con le scuole di Allie e quindi ho intenzione di portare avanti i progetti in corso con gli insegnanti sia delle scuole elementari che delle scuole medie per far sì che ad Allie la proposta formativa sia sempre una proposta importante per i nostri bambini, per i nostri ragazzi. Vorrei portare avanti l'aiuto che c'è, il costante aiuto all'asilo che è un'altra realtà fondamentale per il nostro paese e questo lo dico soprattutto da mamma di due bambini che frequenteranno e frequentano l'asilo e poi ovviamente la mia grande passione, non lo nascondo, è la cultura dunque una residenza sabauda così importante e vorrei che trasformasse Allie in una nuova venaria se possibile e fare in modo di avere sempre un colloquio costante con il polo museale e la direzione del castello e realizzare insieme se possibile tante iniziative. Per me la cultura non è solo una serie di iniziative organizzate per chi è amante già della cultura ma vorrei riuscire ad attuare delle iniziative e dei progetti che possano essere anche capillari e dedicati alle famiglie il più possibile. Ovviamente se avrò i consensi necessari mi occuperò anche di politiche sociali, in questo senso il ruolo che gli amministratori hanno è più che altro un ruolo da filtro per capire quali siano le esigenze delle famiglie più bisognose e quindi anche in questo senso ci sarà il mio massimo impegno. Per lavoro mi occupo anche di ristorazione scolastica e quindi ritengo che organizzare delle iniziative sempre con le scuole sul tema del cibo per il contrasto dell'obesità infantile e di alcune patologie siano anche questi argomenti importanti su cui poter lavorare. Quindi io ringrazio Marco per la proposta e vi garantisco che se possibile la metterò in atto con il maggiore impegno e soprattutto con grandissima serietà. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, mi chiamo Pia Francesco Elia, 19 anni, studio Computer Engineering Augli Tecnico di Torino. Mi segno nuoto e spezzo le mie giornate di studio con il pianoforte che mi accompagno ormai da più di dieci anni. Scommetto che tanti di voi si stragnano chiedendo cosa io faccia qui. Beh, vorrei cercare di rendere la vita un po' più semplice per tutti noi. Non posso certo avvantare l'esperienza dei miei colleghi qui dietro di me, ma nel mio paniere ci sono tanta voglia di fare e determinazione. essendo sempre stato presente in molteplici associazioni, manifestazioni di questo paese, ho accettato questa candidatura con piacere, ma con una riflessione. Avete presente quando vi starvo urgentemente il telefono, siete in giro per le frazioni del paese, le conie di Santa Maria, San Grato e non prende. Ecco, questo mi succede quotidianamente. Io avrei tanto voluto postare sui miei social il panorama che si può ammirare dalla strada per andare via il fre, ma non ho potuto. Spesso alle meraviglie che il nostro paese ci offre non siamo in grado di assegnarci il giusto peso. Aglie è un comune piccino, ma con tanta intraprendenza da fare invidia a realtà molto più grandi di noi. Eppure sembrano essere tagliati fuori, l'ultima rotta del carro un passo indietro. Credo che ormai siamo pronti ad una meritata rimonta. Per questo Aglie sarà fra i primissimi comuni, primo assoluto nella regione Piemonte, di usufruire un'opportunità a costo zero, grazie al progetto di Bagnia dei Arancioni portato avanti dall'attuale consigliere al turismo, Silvia Maffeo. L'opportunità di cui sto parlando si chiama 5G, una nuova infrastruttura. Bassissimo costo ambientale verrà nascosta, nemmeno installata, nell'area centrale di industria di questo paese, proiettando quindi Aglie in un mondo finora inesplorato. Internet of Things, Smart Cities, Smart Health e Smart Government sono i vantaggi principali che il 5G ci permette di portare nel nostro paese. L'installazione di nuovi punti di videosorveglianza potrà venire in tempi estremamente ridotti, molto di più di quello che cade oggi. In generale sarà possibile la gestione dell'illuminazione pubblica in tempo reale, monitorando in tempo istantaneo guasti e problemi. Nuove strumentazioni sanitari connesse saranno di possibile utilizzo all'interno dei nostri ricoveri, saranno in grado di comunicare in tempo reale e complessi ospedalieri, quindi con il medico che ci sta seguendo. Ognuno di noi tuttavia potrà beneficiare ad ogni modo dell'utilizzo del protocollo in termini di velocità di navigazione, che sarà 100 volte più veloce di quella attuale del 4G, ma anche per quanto concerne la copertura del segnale. In più, 5G, oltre ai precedenti standard, rappresenta per le aziende e i costruttori una importantissima opportunità di sviluppo e crescita. Piazze, Portici, Salone Franco Paglia saranno anche loro connessi grazie al progetto Piazza Wifi Italia, saremo in grado di portare connessione veloce per tutti, in un modo mai visto prima, 3 minuti per la prima configurazione e poi ce ne si può dimenticare per sempre. La parte migliore è che senza un altro singolo sforzo sarà possibile connettersi a ogni punto federato d'Italia e prossimamente anche in Europa. Inoltre, in partnership con Ellen Opel Fiber, stiamo lavorando per coprire gli E con connessioni in fibra ottica. Profili da almeno 100 MB saranno presso disponibili nelle zone centrali del paese, nonostante ciò la totalità della superficie è già tuttora coperta da connessioni e di intrettuali tramite apparati radio. Il tempo passa, mondo va avanti e velocemente l'amministrazione comunale deve essere sempre e sempre sul pezzo. Nuove tecnologie di infrastrutture saranno messe a disposizione del comune con un'idea di base, spendere meglio. Quante volte la vista salata della bolletta della luce del telefono pensate ma perché non ho ancora cambiato e la vostra moglie o marito vi tronca subito con funziona, perché mai dovremmo cambiare? Ecco, nel 2019 abbiamo la possibilità di sfruttare tecnologie avanzate per migliorare produttività, ridurre tempo e rischi e spesso anche i costi. Sarà possibile svolgere pratiche online, richiedere documenti, effettuare pagamenti, prenotazioni, ticket di supporto, burocrazia più snella e tempistiche più veloce per la gestione delle pratiche e le risposte ai cittadini. Collaboreremo oltre al resto col progetto io.italia.it per sperimentare e creare un unico e semplice punto di incontro tra la pubblica amministrazione e i cittadini all'interno del comune, generando infinite opportunità di sviluppo e crescita per il comune stesso. Saremo in grado inoltre di mantenere e garantire una presenza più costante sui social network, agevolando comunicazioni tra comune e cittadini, anche i più digitali, ma soprattutto per dar voce agli innumbrevoli eventi che grazie alle tante associazioni di cui allievo vantarsi prendono forma. Metodi di comunicazione unidirezionali ed interattivi saranno messi a disposizione dei cittadini tramite applicazioni di messaggistiche istantaneali come Whatsapp e Telegram. Verranno usufruiti per la comunicazione tempestiva di eventuali eventi straordinari o, si spera di no, emergenze, oppure comunicazioni personalizzate relative ad eventuali prestazioni nei nostri confronti dal comune. Innovazione ed opportunità sotto ogni punto di vista. Questo è ciò che voglio dare ad agli amici, concittadini, amici e conoscenti, perché anch'io metto agli e prima di tutto. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per la molta presenza, ci fa molto piacere, ci date un po' di forza, bravi. Io mi chiamo Massimo Vezzetti, ho 62 anni, svolgo l'attività di coltivatore diretto, sono presidente di sezione con diretti di Alie, presidente della Roggia, sono stato all'interno della giunta comunale all'Aliese dall'80 all'85 e per 12 anni consigliere provinciale dei raccoltivatori diretti di Torino. Ho condiviso questi 5 anni bellissimi dal 2014 al 2019, anni pieni di soddisfazione e sono volati, quando si è ammalati non passa il tempo, quando le cose vanno bene il tempo vola con questa amministrazione, quello che mi spiace tantissimo lo dico di cuore, che sono stato uno l'altro anno, ricordo le cose di 5 anni fa, avevo detto che dovevamo portare questa amministrazione a fine dei 5 anni, siamo arrivati, ne perdiamo uno o tre, ci dispiace, anch'io quasi volevo scappare, poi Marco mi era girato e ho deciso di stare ancora, però ci dispiace molto. Però vi voglio anche dire che a Marco le ho detto che era solare, sereno, umile, adesso devo aggiungere un altro aggettivo qualificativo, avete visto i nuovi che ha trovato? Ogni settimana ci trovavamo, ci trovava una, poi ha trovato Dolce, poi ha trovato Gianni, poi l'altro Gianni, poi Stefania e poi chi c'è ancora che dimentico? I due Gianni! Ah, pif, pif, pif! Bravissimo! E ha voluto, ha sempre detto da principio, ha sempre detto che voleva prendere uno giovane e giovane per allevarlo a fare il sindaco di una volta, e uno più anziano che perdevamo Walter, l'anziano deve essere Gianni Zucco. Adesso voglio apparire una parentesi su quel passaggio di 5 anni che sono volati, io una cosa devo ricordare anche in questi anni, che la desideravo, non so, da 10 anni almeno, la col diretti è fatta da tanti paesi, io sono presidente di sezione, la provincia di Torino ha ben 325 paesi con le nostre bandiere che partecipiamo, pensate un po', la festa provinciale sarebbe questa, che apre le feste di tutte l'inverno del ringraziamento e si fa una volta per posto, ma la candidatura io l'avevo sollevata già almeno 12-13 anni fammi ricordo, ma i nomi erano ben tanti quelli dei paesi, pensate un po', 325 prima che passano tutti, io l'aspettavo sempre, guarda caso me l'hanno accettata proprio nel 19-11 del 2017 ad Aglie, ma è stata una cosa proprio di sollievo, capito tutto quello che vuole nella mia vita, che è già capitato delle cose brutte per carità, ma questa l'ho portata a termine e ho portato anch'io Marco, in questi 5 anni molta gente ad Aglie, eravamo ben 500 e ho avuto anche un bel ritorno, ecco perché la festa si è svolta il 19-11 del 2017 che è la prima, che apre poi tutte quelle dell'inverno, con la partecipazione nazionale di Roberto Moncalvo, mai venuto, alle provinciali io vado da tutte, tutte vado, che sia Carmagnolo, che sia Poesino, che sia Chieri, che sia Rivarolo, ma cercano sempre i paesi più grandi per fare queste cose, questa volta si è tolghiere, avevamo Roberto Moncalvo il nazionale, quello da Roma e poi il nostro presidente, di solito c'era sempre, poi c'era il direttore e poi molta gente di tutta la provincia con tutte quelle bandiere e abbiamo fatto una bella festa proprio veramente, ma quello che vi voglio dire da all'adiese, che noi magari non valutiamo tanto il nostro paese, ma quello che mi è tornato nelle mie tasche, dopo tutto il lavoro, che era un fastidio, perché era un problema organizzare una festa grossa così, che andando a casa per la strada, che andavano giochi in polma, in macchina, tantissime mi hanno telefonato e mi hanno detto Massimo hai fatto una bella festa, hai fatto la differenza, un castello, una bella chiesa, il prete che l'ha cantata, la messa l'ha fatta cantata, non le fanno più in giro cantate, e poi, e poi, quando è ancora arrivato Edoardo Cerato, il vescovo, ma che bella cosa, mai visto il vescovo, è venuto un quarto d'ora a dirci un saluto, ma è stata una cosa bellissima, sentire tutte quelle telefonate mentre tornavano e poi alle altri incontri che abbiamo avuto e poi portare 500 persone anche da lì è stato bello per tutti noi, amministrazione, vero? Ok, continuo, poi vi dico perché, questo lo volevo dire, che anch'io ho contribuito con quel che posso per fare venire gente da lì, poi perché ricandidarmi? Non avevo più tanto voglia, mi sento un po', Matteo viene su ma non ho ancora la patente, aveva tanta voglia di fare, però purtroppo è stata una scelta ancora una volta molto ponderata nei confronti della squadra, ma per la mancanza di tempo libero, non a disposizione di dedicarmi al Comune. E nuovamente però ho accettato l'invito di Marco perché è una persona che ti coinvolge nel suo modo di fare e per il suo carattere solare. Grazie Marco per questo. Grazie, grazie. Come cinque anni fa auguro che questa squadra duri cinque anni ancora e con anche i tre che escono ma che ci hanno detto di aiutarci ancora, di sotto quando possono. Grazie per questa disponibilità che ci date. Speriamo di durare tutti assieme, ma perché duriamo? Perché? Perché avevo detto pure io quell'anno, cinque anni fa, avevo detto che Marco non faceva niente da solo, sempre ci coinvolgeva e coinvolge, si discute, si fa e poi si fa tutto assieme. E se il carroccio tira tutti di là, va avanti, ma se uno tira indietro, altro di là, le forze si annullano e il carroccio va avanti. Questo fa Marco e ci dice che fa fare a noi, fa a lui, però facciamo tutti assieme. Questo è bello, perché la dolce dice che è una bella famiglia, si è trovata bene. Grazie di questo che ci hai detto anche te. Poi, se sarò eletto mi occuperò di tutto ciò che riguarda l'agricoltura e il mondo rurale, siccome ho parecchi anni di esperienza alle spalle e poi il mio lavoro, quale sarebbe il mio di agricoltore? Perché sono rimasto la roggia, nessuno c'è, la roggia di Alia che sono presidente, ahimè, quest'anno abbiamo vissuto un anno bruttissimo con la roggia che doveva venire l'impianto tutto a goccia e lì computerini nel terreno, noi ne avremmo mai più bagnato. I soldi erano europei, vi giuro, non spendevamo una lira, erano europei, ma quando bagnevamo che la nostra roggia parte da Castellamonte, attraversa Ozzegna, a Bairo, a Lieva, a San Giorgio, meno male che tutti abbiamo votato noi che non abbiamo fatto questo, perché poi ci rimaneva a noi comune, perché ho il piede in due o tre scarpe, purtroppo ci tengo a restare proprio per tenere salda i fastidi che possono dare, la roggia diventava di nuovo comunale, per cosa? Non per irrigare i nostri campi quei due mesi, ma per portarli all'acqua di quei brutti temporali che fa adesso, che inondano tutto, quindi abbiamo di nuovo il lavoro, invece se usiamo continuiamo a usare la roggia, la teniamo pulita il consorzio, e invece poi il presidente di sezione mi occupa anche di tutti i problemi di avvisare la gente del paese, i ricoltori se c'è qualche novità, e quindi poi più, e gli altri miei lavori sono quelli di far togliere la neve, di far tirare il sale, e vi giuro, a volte vuole tirare il sale Eric che è di turno quest'anno, io magari è come spendessi dei miei soldi, ma non ti va solo a più due, non tiriamolo che non c'è bisogno, cioè per far risparmiare, lo faccio solo per quello, sono anche un povero, e poi tra breve, una cosa che avevo chiesto, avremmo un peso nuovo, che c'era pure bisogno perché il nostro non andava più, bisognava proprio buttarlo, non era più, ogni due anni si fa il controllo, ci hanno detto che i due anni poi non si poteva più rifare, allora l'abbiamo spostato, spero di inaugurarlo, prima che usciamo, e gli altri lavori, la neve, fare i fossi lungo le strade, sono lavori che magari non si vede, però le strade Polino, le altre su Via Curva, le gestiamo un po', tutti gli anni poi si rovinano, però qualcosa, mi impegno su quelle robe di io, e poi, e poi, e poi, infine, l'altra volta, qui cinque anni fa, eravamo tre liste, questa è anche bella, io ho detto 11, 22, 33, io ho ringraziato 32, io mi sono tolto, perché 32 persone che vogliono fare gli amministratori in comune, è una bella cosa, e grazie a tutti 32 ho detto, ma adesso, ma adesso, che forse saremo solo in 11, eh, mia cara gente, non è più bello, cioè, i candidati della nostra lista siamo solo noi per adesso, eh, guardi dietro, una corsa al giro d'Italia, che non c'è nessuno dietro, eh, come com'è, è proprio brutto, no? E allora vi chiedo un aiuto a voi, adesso, ma un aiuto a tutti voi, eh, a tutti dovete aiutarci, se noi, perché io ho trovato della gente sotto i portici, questi ultimi tempi mi hanno detto, oh, è lei facile bagnare, il sì, ma vi è, ma se non venite a votare, se non venite a votare, cosa succede? ai bel, eh, il commissario, e noi andiamo a casa non andando a riposarci, però le cose non vanno avanti, allora vi voglio chiedere questo, ma ci dovete fare un aiuto forte, ai vicini di casa, a quelle che trovate per la strada, dovete andare a votare, che abbiano un meno, almeno, almeno, quel 51%, un 60%, e poi più ce ne danno, se ci volete bene, bene, se ci volete bene, e abbiamo fatto bene, datecene più che potete, fateci dare dei voti più che potete, quelli li trasformeremo in adrenalina e gasolio per fare tanto bene da ridarvelo a voi in tutti questi anni. ecco, adesso avete capito perché ho chiesto a Massimo di chiudere gli interventi, grazie mille, grazie davvero a tutti, ribadisco per essere stati così numerosi ad aspettare, insomma ad ascoltarci, però non scappate perché dopo tutto questo ascolto, anche se a parlare siamo stati noi, però la gola secca ce l'avrete anche voi e abbiamo un piccolo rinfresco, vi rubo ancora pochissimi minuti, poi daremo spazio al rinfresco. Quindi grazie a voi e in particolare un ringraziamento lo devo fare a voi dopo che vi siete presentati e devo dire che, insomma, consideratemi una battuta, i giovani non sanno ancora cosa gli spetta, però se i vecchi, no i vecchi, ma quelli che hanno, si ripresentano per la seconda volta, escludendo che loro sia un atto di sacrificio, credo che sia un atto di fiducia nei miei confronti e quindi per questo li ringrazio, grazie mille ancora per la vostra disponibilità. Massimo ha accennato una situazione che si potrebbe verificare, in effetti non siamo ancora sicuri perché c'è ancora tra quattro giorni per poter presentare ufficialmente delle liste, però a conoscenza nostra ad oggi potremmo essere gli unici a correre per questa competizione elettorale. Ovviamente l'elezione del sindaco, anche nel caso in cui ci fosse una sola lista non è assolutamente automatica ed è necessario superare il quorum, la democrazia non si ferma anche se c'è una sola lista a presentarsi, perché per far sì che l'elezione sia valida è necessario che almeno il 50% degli aventi diritto si recchino alle urne e di questi almeno il 50% facciano la croce sul simbolo, anche se l'unico, se dovesse essere unico facciano la croce sul simbolo. Quindi l'esercizio del vostro diritto e dovere di voto è sicuramente qualcosa di importante quest'anno, forse più di altri anni. Quindi concludo invitandovi a esercitare questo vostro diritto di voto e avete comunque la possibilità di esprimere la preferenza per il candidato che preferite tra i dieci che si sono presentati questa sera. Io vi chiedo di continuare a credere che Aglie possa diventare un luogo sempre più bello ed accogliente, un paese vivo e moderno che però rispetta le sue tradizioni e la sua storia. Vi chiedo di continuare a partecipare attivamente agli eventi, all'attività importantissima delle associazioni, alla vita di paese ed essere aperti ai visitatori che in modo sempre più frequente vengono a visitare i nostri gioielli. Vi chiedo anche di allargare un pochino i confini del vostro giardino e provare a pensare che questo paese sia casa vostra, il luogo accogliente dove ritirarsi la sera, il luogo degli affetti, il luogo dove si può crescere, ridere, incontrare e condividere. Di prendervene cura esattamente come fate a casa vostra per le cose che ritenete più preziose. Vi chiedo di essere attenti e critici nei nostri confronti se saremo eletti, comunque in generale con gli amministratori, perché nulla si è lasciato al caso. Perché se è vero che ci sono delle persone come noi che vogliono impegnarsi per guidare agli E, è altrettanto vero che abbiamo bisogno di tutti voi perché le cose siano come le immaginiamo e possiamo raggiungere insieme questi obiettivi. Quindi per concludere utilizzando quello che è il nostro nome, vi chiediamo di continuare insieme a noi a mettere agli E prima di tutto. Grazie e buona Pasqua a tutti.